Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. La polizia ha fornito i dettagli dell'operazione Trearchi dal nome del quartiere Fermano, in cui è scattato il blitz che ha visto coinvolti oltre 100 agenti dei vari reparti delle questure di Fermo, Ancona, Macerata, Scolipiciano e Pesaro, coadiuvate dal reparto di prevenzione crimine e dalle unità cinofile antidroga di Senigallia. Eseguite ben 11 misure di custodia cautelare nei confronti di altrettanti nordafricani che gravitano nel mercato dello spaccio. In particolare in un'abitazione a Montegranaro sono stati rinvenuti 3 kg di sostanze stupefacenti, eroina ed hashish, divisi in 880 dosi. Qui due persone sono state arrestate in flagranza di reato perché trovate in possesso di ingenti quantità di droga durante il blitz scattato prima dell'alba di lunedì. In assoluto silenzio per non essere scorti dalle vedette fisse e mobili utilizzate dagli spacciatori e non essere sentiti dai pitbull a guardia delle abitazioni dei pusher, gli agenti hanno fatto irruzione contemporaneamente in una decina di appartamenti per lo più a Lido Trearchi. Alcuni soggetti si sono barricati all'interno, tanto che per accedere nelle case è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Altri hanno inzato contro il personale della polizia cani di grossa taglia addestrate all'attacco che sono stati neutralizzati dai tecnici veterinari con dei narcotici. Due sono le abitazioni sottoposte a sequestro preventivo, sempre a Lido Trearchi, in via Tobagi e in via Paleotti. Poi sono stati sequestrati due cani, un rottweiler e un dog de bordeaux adulti. In un'abitazione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una katana, due maceti e una fiocina da sub. Tutti i soggetti coinvolti nell'operazione sono di origine magrebina e hanno un'età compresa tra i 20 e 35 anni. I controlli sono stati effettuati anche a Montegranaro, Morrovalle e Ripatranzone, dove i soggetti indagati avevano altre basi operative.